Perché secondo me è la cultura politica dell'attuale classe dirigente italiana che per anni, anzi per decenni, non ha voluto riconoscere il valore della resistenza e dell'antifascismo come uno dei valori fondanti della nostra democrazia. E' il presidente dell'Ampidiarezzo Roberto Del Gamba a commentare ai nostri microfoni alla vigilia del 25 di aprile quanto affermato dalla seconda carica dello Stato. L'antifascismo non è in Costituzione, aveva detto qualche giorno fa il presidente del Senato Ignazio Larussa, un'affermazione che ha creato non poco imbarazzo anche tra i partiti di centrodestra che governano il nostro paese. Dopo l'infelicissima uscita riguardante gli episodi di Via Rasella, qui siamo ritornati su un'affermazione che è gravissima. Non riconoscere l'antifascismo come uno dei valori fondanti della nostra democrazia nel 2023, come dice lei, è inconcepibile e aberrante. Io spero che il 25 aprile, la giornata di domani, serva a ricordare anche a queste persone che noi abbiamo avuto delle esperienze orribili grazie ai nazifascisti e che la nostra terra in particolare è stata colpita da stragi orribili che anche stamani ricordavamo nella cerimonia di dedica di una scultura alle donne cadute qui in provincia di Arezzo. Chi ha fatto in modo che l'Italia potesse rialzarsi da questo baratro nel quale era stata infilata dai fascisti, dai fascisti diciamolo, dai fascisti, sono stati gli antifascisti e i partigiani che ci hanno liberato. Durante le celebrazioni ufficiali del 25 di aprile davanti al monumento della Resistenza saranno gli studenti del liceo musicale Petrarca di Arezzo ad eseguire i brani musicali che ricordano la Resistenza dall'inno nazionale a Bella Ciao. La partecipazione di una scuola, in particolare cito nel caso specifico il liceo Petrarca, che mette a disposizione 13 alunni, quindi un'orchestra, una piccola orchestra diciamo, di 13 alunni guidati da un insegnante, darà un tocco di gioventù, un tocco secondo me particolarmente significativo di partecipazione dei giovani. Ecco, domani sera invece, l'altro evento a cui lei faceva riferimento, faremo per la prima volta la proiezione di un documentario, lo possiamo chiamare un documentario, un video, di interviste originali a sette partigiani della nostra provincia, realizzato, queste sono interviste realizzate da alcuni compagni della sezione di Arezzo diversi anni fa, cito in particolare Andrea Berneschi, che sono andati a quel tempo a cercare a casa loro persone che hanno partecipato attivamente alla Resistenza, hanno fatto loro, a tutti loro, le stesse domande nelle quali volevano approfondire i temi della loro partecipazione alla Resistenza, la loro esperienza, quello che hanno provato, quello che è stato il dopo, ecco, hanno raccolto ore e ore di materiale e noi abbiamo fatto un lavoro di, come dire, taglie e cusci, anche grazie a un mio collega insegnante che ha fatto la parte tecnica e abbiamo ricavato, come dicevo, un video di un'ora e mezzo, due ore che per la prima volta proietteremo, manderemo in onda, insomma, e trasmetteremo, come vogliamo dire, a chi parteciperà alla serata al Circo L'Aurora a partire dalle 9 di domani sera.